Siamo all'Università di Napoli Federico II con il professor Ciro Esposito per un convegno internazionale. Professore, lo scopo e il significato di questo convegno internazionale? Questo è un masterclass internazionale in chirurgia mininvasiva pediatrica organizzato tra la società americana di laparoscopia pediatrica l'IPEG e la società europea di laparoscopia pediatrica l'ESPES che ho il piacere di presiedere dove verranno trattati quelli che sono gli argomenti di maggiore rilievo nell'ambito della chirurgia mininvasiva pediatrica. Professore, si presume ovviamente 500-600 persone che sono coinvolti in questo dibattito a distanza? Sì, il masterclass ha la caratteristica di andare in live streaming in tutto il mondo e sono previsti circa 1000 persone che si collegheranno dalle diverse parti del mondo che potranno vedere in live streaming l'evento e porre delle domande in diretta ai relatori. Professore, dicevamo un corso di formazione teorico e pratico, tra i tre giorni? Sì, oggi è una parte esclusivamente teorica che permetterà di parleremo di quelle che sono i principali tecniche chirurgiche che si applicano in chirurgia mininvasiva e poi ci sarà una due giorni pratica dove i chirurghi iscritti al corso potranno applicare le tecniche su un modello animale. Professore, questa nuova tecnica, questi strumenti moderni che riescono veramente a mettere insieme tutte queste energie ma soprattutto le eccellenze di questo settore? Sì, assolutamente. La chirurgia mininvasiva è il futuro della chirurgia e del futuro della chirurgia pediatrica e grazie a strumenti miniaturizzati del diametro di 3 mm e grazie a delle ottiche che permettono di avere una visione 3D alta definizione si riescono a realizzare degli interventi sempre più precisi con dei risultati eccezionali. Ognuno di loro porterà ovviamente le sue esperienze per quanto riguarda proprio la chirurgia mininvasiva? Sì, ci sono speaker che vengono da tutto il mondo, da Los Angeles, dall'Olanda, dalla Spagna, dalla Francia ed ognuno eccelle in una specifica tecnica che illustrerà oggi nel Masterclass e poi applicherà nel corso che ci sarà nei prossimi giorni. Dottoressa, cosa chiediamo ovviamente alla nostra ospite? La professoressa Jacqueline Narvez è la General Manager dell'IPEG da Los Angeles, Stati Uniti d'America. Professor Jacqueline, questo live streaming evento, come si rompe le barriere comunicative e dove si è arrivato? Sure, it came from two pioneers from both ESPES and IPEG. That would be Philippe Montupé and Steve Rothenberg. And I believe as we spoke to both leaderships, we saw that both leaderships, we have a joint mission to provide education, research, and training to those who have and have not because everybody deserves quality education and quality care. So it was within that collaborative effort that began almost two years ago, three years ago, that we started with these Masterclass webinars. So this is our second one. La dottoressa ci dice che praticamente questa idea è venuta fuori da una collaborazione internazionale che si è avuta con vari professori, tra cui Philippe Montupé e Rothenberg, ed è nata l'idea proprio della comunicazione interattiva con tutto il mondo. Quindi più società, da quella americana a quelle europee, hanno fatto sì che questo possa dare modo a tutto il mondo, quindi abbattendo le barriere comunicative, di portare le nuove frontiere della chirurgia pediatrica mininvasiva anche in tutte le parti del mondo. As this is the second edition of this live streaming event, from which base did you start and where you want to arrive in the future? We would like to be able to provide continuous education and innovation in access, so this is one of many activities that we plan for now and in the future, but that's one of our goals is to unite the educational efforts and be able to continuously provide to the surgeon quality information and access. Dottoressa ci ha spiegato che nel futuro i goals, quindi gli obiettivi di questo live stream event saranno quelli di portare la qualità della formazione del chirurgo dappertutto, quindi la possibilità di una vera formazione sia chirurgica sia comunicativa in tutto il mondo. Professor, which are the new real frontiers of pediatric minimally invasive surgery? Well, first I have to correct you slightly, because IPAC is not just an American society, we are a worldwide society from all the continents. And of course it started with many of our American colleagues, but nowadays we have colleagues from Asia, South and North America, Europe, and that's also the reason why we are having this together meeting now with the ESPES society, because we want to have a real good collaboration also with our European colleagues. Now regarding the new frontiers in pediatric minimally invasive surgery, I think that we are going towards more neonatal surgery, performing those minimally invasive, because we think the new nation will recover more quickly from these procedures, they will have a better outcome, and also because of the mineral scar formation you get, they have a better life expectancy. Professore, ci teneva a precisare che l'IPEG è una società che ha comunicazioni con tutto il mondo, ovviamente anche con altri tipi di società, con l'ESPES, che è un'altra società europea, ma dappertutto in tutto il mondo. Infatti racchiude anche alcuni membri dell'Asia, del Sud America e europei. Il professore inoltre ci ha appunto risposto alla domanda sulle nuove frontiere della chirurgia pediatrica minima, dicendo che la chirurgia pediatrica minima invasiva si avvale tantissimo delle nuove frontiere comunicative ed è particolarmente utile ai nuovi chirurghi pediatrici e anche in formazione, è molto utile appunto apprendere anche in live streaming, questi eventi live streaming, le nuove procedure di chirurgia. È molto importante avere un'informazione più ampia per tutti i nostri colleghi all'interno del mondo. Non tutti potrebbero viaggiare all'interno del mondo come possiamo in Europa, e particolarmente in dei paesi meno sviluppati, ci sono molti colleghi che sono molto interessati a sviluppare nuove strumenti per la chirurgia minima invasiva, ma in realtà non hanno il modo di viaggiare così tanto. Ho chiesto al professore qual era quindi l'importanza di questi eventi live streaming e come essi potessero aiutare la diffusione della chirurgia pediatrica minima invasiva. Lui ci ha risposto dicendo che questi sono degli ottimi eventi, soprattutto non tanto per i paesi più sviluppati, ma soprattutto per quelli meno sviluppati. Inoltre questi eventi consentono anche di presentare i nuovi risultati, gli ultimissimi risultati nel campo della chirurgia minima invasiva pediatrica e di fare domande contestualmente nello stesso momento in cui loro appunto danno questi risultati, i professori danno questi risultati, in modo da poter essere risposti in tempo reale e di conseguenza la comunicazione diventa molto più semplice in tutto il mondo, anche essendo in diversi paesi del mondo. Dicevamo veramente questo convegno internazionale, Fioralocchiello del Poloilchimico di Napoli. Sì, ad altissimo livello, sicuramente a livello internazionale, un Fioralocchiello per tutta la chirurgia pediatrica e l'urologia pediatrica italiana e me lo lasci dire, soltanto qualcuno col carisma del professore Esposito poteva organizzare ciò. Professore, mettere insieme tutte queste energie, ma soprattutto ecco queste nuove tecniche e conoscenze che solo in questo modo si riesce veramente a trasmettere. Sicuramente c'è un interscambio di know-how, un interscambio di conoscenze in tempo reale. Come ha detto prima qualche collega, riusciamo a far raggiungere tutto ciò anche ai paesi purtroppo ancora meno sviluppati che possono implementare e migliorare le loro tecniche. Quindi abbiamo visto che il professore Esposito ha invitato il top ovviamente della minichirurgia mininvasiva. Sì, sicuramente ha invitato il top a livello mondiale, a livello internazionale che c'è in questo momento che si occupa espressamente di chirurgia mininvasiva pediatrica. Professore, è un vero successo? È soddisfatto che si è svolto veramente nel migliore dei modi questo ecoevento? Sì, assolutamente. Il Masterclass è stato un vero successo. Oltre 1.500 persone si sono collegate da tutto il mondo. Ci sono state moltissime domande. È veramente un grandissimo successo. Quindi come possiamo concludere questa trasmissione, professore? Penso che sicuramente sono state evidenziate quelle che sono le nuove frontiere della chirurgia mininvasiva e questo è soltanto il primo step perché abbiamo pianificato di organizzare lo stesso evento anche per l'anno prossimo.